salve a tutti oggi ci troviamo sul territorio di monte sant'angelo in un prato ricco di orchidee possiamo vedere non so se l'immagine riesce a inquadrare bene ma c'è un campo veramente con una bellissima popolazione di neotenia tridentata e inoltre la fortuna della giornata ha fatto sì che ci ha fatto trovare un ibrido particolarmente fantastico ed è l'ibrido tra neotenia ustulata e neotenia tridentata il nome tridentata è perché fa riferimento alla forma dei sepalì bene per oggi è tutto e arrivederci alla prossima specie ciao